Prima il bando che consente di declassare le aree edificabili in terreni agricoli, poi il trappolone. Così lo hanno definito i Cinque Stelle di Fano che criticano l'amministrazione comunale e in particolare l'assessore Cristian Fanesi. I consiglieri Mazzanti, Ruggeri e Panaroni mettono sotto i riflettori un secondo bando che permetterebbe ai proprietari di aree agricole di chiederne la trasformazione in edificabili. L'importante, dicono i pentastellati, è che per Fanesi alla fine della fiera il saldo sia zero e quindi altro che riduzione del consumo di suolo. Innanzitutto in questo bando ci si è dimenticati di tutti gli altri proprietari che continuano a pagare l'IMU, per esempio coloro che possiedono terreni con destinazione verde sportivo. Ma la vera trappola dov'è? È che imprudentemente il vice sindaco Fanesi ha proposto un secondo bando alla rovescia, cioè consentire ai proprietari di terreni agricoli di trasformarli in edificabili. Ovviamente questa è una sconfessione totale dell'intenzione sbandierata dalla Giunta di ridurre finalmente il consumo di suolo ed è forse il sintomo del gattopardismo. Tutto cambi perché nulla alla fine cambi. I tre consiglieri presenteranno un'interrogazione per capire se davvero l'amministrazione abbia l'intenzione di dare seguito alle dichiarazioni del vice sindaco. Il nostro sospetto è che raggranellando tutta questa edificabilità la Giunta voglia portare a compimento un'operazione che ha in mente da tanto, cioè quella di realizzare un nuovo centro commerciale a Centinarola che sicuramente sarebbe il colpo di grazia per il piccolo commercio di vicinato e anche per i commercianti del centro che sono già in questo momento in forte difficoltà. Operazione che attualmente è resa impraticabile da una legge regionale che appunto non la consente finché non si compiono questi declassamenti di terreni edificabili. Che cosa propone il Movimento 5 Stelle? Dunque in una città con 7.400 alloggi vuoti noi crediamo che la priorità debba essere costruire sul costruito, quindi puntare sicuramente sulla riqualificazione energetica degli edifici, sull'efficientamento e questa può sicuramente essere una chiave per un volano, per uno sviluppo economico in chiave green della nostra città e del nostro territorio per ripartire soprattutto in mezzo alle difficoltà in cui ci ha messo l'emergenza sanitaria da coronavirus.